Viviamo questa campagna elettorale come deve essere vissuta, cioè come il derby tra rabbia e speranza. Loro sono la rabbia, noi siamo la speranza. Loro sono l'urlo, noi siamo il discorso. Loro sono l'invettiva, noi siamo il ragionamento. Loro sono l'insulto, noi siamo il dialogo. Loro sono lo sfascio, noi siamo la proposta. Loro sono contro l'Italia. Noi siamo per un'Italia che sia in grado di guidare l'Europa. Noi non abbiamo un obiettivo piccolino come andiamo il 25 maggio. Noi ci interessa che le elezioni europee tornino a disegnare un'Italia nella quale finalmente i nostri figli possano stare e non possano scappare più. E da questo punto di vista, però permettetemi, la sfida non è sul segretario o sul gruppo dirigente. La sfida è per tutti e per questi motivi vi chiedo davvero di cuore di dare la disponibilità ai vostri segretari provinciali a andare in piazza anche ai parlamentari. Stiano ai banchetti parlamentari, stiano ai banchetti 17 e 18. Discutano, riflettano, decidano, dialoghino. Vi chiedo la disponibilità a organizzare iniziative concrete sui singoli temi e da parte nostra vi garantisco che noi non ci tireremo indietro e che sarà una campagna elettuale fatta all'ultima goccia di sudore.